fermate porca madre! anche stavadina si svegliare lo stronzo nucleare fermate! le vedi più queste Nicoli le compro se io forca madre ma è meglio? va giù meglio no? ma qui è meglio, guarda che cazzo è fatto se li vuole a tutti ma va giù meglio guarda che cazzo è fatto senti quanto è fresco fuori vai via è fresco eh mannaggia il crocistrana è fresco manco si può toccare, è d'oro è d'oro, via mamma ma se li mangia là me li metti in tuo cuore che discorso è d'oro è d'oro è fuori è freddo i cazzini della nonna vai le rompe tutte scemo fermate le rompe così, non so dire mica sono dei coso dei coso di qui bisogna andare interpretazione pieme il coso che stava sulla cosa che l'ha vista su quell'altro coso tutto coso cosa quello quell'altro non danno un nome quando avrai l'età mia cosere anche tu può darsi c'è un signore che sta e fa o no? e pulisca la stufa e dopo che fai? e poi? e poi va affanculo oh che bello così in leggerezza molto tranquillo piano piano e poi va affanculo fa fa ma che vuoi? è fatto? sì ecco ho fatto ho fatto non ho fatto niente allora riscappa che c'è di lì? fa fa si domani fa si fa che sta e fa ca incredibile quasi dicembre guarda mi sono vestito perché pensavo che era freddo cioè stamattina era freddo adesso è un caldo saranno 16 gradi boh un po' l'Umbria non la caga nessuno quindi fanno il meteo dicono vengono giù dal nord poi Toscana poi Emilia Romagna poi Marche poi Lazio Abruzzo l'Umbria niente non ci calcola manco il meteo cioè zero non sapevo mai come vestisse infatti sono morite caldo pozza fa le fiamme poi volevo dirvi che tra un paio di settimane i nonni faranno 62 anni di matrimonio e li porterò a fare un weekend d'amore quindi non vedo l'ora o no eh famo il preseppino annaggia il cro... oh ti lascia qua di coglione a me fa l'imbecile ah ma il preseppino io e te facciamo... si facciamo il preseppino si la fotografia dalla figa vale nooo famo il preseppino vattene ah mi devi dare una risposta me ne vuoi capo no le minacce no le minacce no che già sono incazzato ma so che sei incazzato tutti i giorni sei incazzato no prima mi hai fatto un cazzo guarda se sei incazzato guarda se sei incazzato guarda se sei incazzato ma guarda quanto sei incazzato guarda quando sei incazzato forse faccio che ti levi guarda se sei incazzato ma ora sul cazzo andaggia il croce strada ma sul cazzo o no? sei incazzato stamento. cane da figa posizione chiabala eccola chiabala chi è? chi è? eccola chiabala chiabala che è il resto oh ci mi fa l***o che ha capito una cosa a presepe come si è messo ma vaffanculo tu un presepio ma vaffanculo tu un presepio ma vai di là, non fa parlare ma queste sono cose sembra eh se non metti in niente oh cosa viccio l'era il detto io... io... questo è il testa da cazzo posto presepio vallo e mi rompisco io ma io volevo sapere se hai riaccredito ma io non lo ho fatto mai no io non faccio niente Mi dica adesso, io non fai niente, non mi rompi i coglioni, vabbè, che io non fai niente. Ma il famo per mano, tentiamo. Ma io non ho da fare niente. Uno piccolino, un presicolino. E' tutta la sorga di quell'astrosa che stai pagando. No, ma chi? Ma io veramente, ma questo è proprio... Ma io veramente, cioè, tu proprio, è partito. Magni anche il biscotto? Dovami. Ma è le una, un colpo. Cioè, ragazzi, qua si mangia a mezzogiorno e alle sette. Cioè, questa, ecco. Mi manno, quando fa. Ho capito, come dice che è anziano? Soprattutto, è ancora a venti gradi e mezzo, eh. Onesto, onesto. Potrei stasera, stasera arriveremo proprio ai Caraibi. Ah, oggi do che andiamo in palestra, bello. Dimi, a quanto ti arrivi? Due. A pleno. È due. È pleno. No, no, sta a due, sta a due. Sta a due, che tocca a fare? Non ti fa niente. Che tocca a fare? Piglia, Piglia X quadrato L1. Piglia L1. Piglia L1. Ah! Gli ho detto Piglia L1, X quadrato. Io veramente, questa stufa. Eh, ho capito, ma questa stufa qua ne è troppo. Piglia L1 è peribile, sta nevicando. Guarda quanto nevica su sti cappelletti ricappellati con dopo cappellatume. Eh? O no? Quando fa tutto il sforzo? Ci non ti fa più da mangiare. Eh già, eh già, ti fa le trago. Voglio vedere. Si sta la... Guarda, si dagliene più, dagliene. Dagliene più. Guarda, guarda tutti sti cappelletti. Ma vado a mangiare per bere un piccolino tagliato. Sì, sì, tutti i giorni una nuova. No, tutti i giorni rompico io. Cioè, assurdo, ma andiamo per me. Guarda belli o no? Ma leva sti musicali. Ma i belli, dai. Ma cari, dai, c'è un bel letto, non te la testa. Vai, lasci, tanto non c'è niente. Ehi, belli. Guarda quando c'era i capelli Homer, guarda bello. Ma sono belli o no? Sì, sono un bricillato come te. Guardamoli insieme. Ma io li guardo. Dai, dai. No, no. Dai. Guarda. Vedete che ti lunga pesa. No, minaccia ancora. Le giustificazioni del video. Se c'è acqua di coglione, stronzo. Dormivo. Ma che viene sparato qui? Ma dormi. Ma che dormi, che dormi. Arrivò con gli occhi, non è dormi. Manca poco a Natale e il modo giusto per fare dei regali è su Bidu. Per esempio, oggi dalle 18.30 apriranno 150 aste per aggiudicarsi dei gift da 100 euro. Guardate ieri queste due vittorie. Un buono da spendere di 100 euro su Bidu, aggiudicato a 2 euro e 52. E un buono Amazon. Potete spendere 100 euro su Amazon a 24 euro. Quindi ragazzi, non fatevi scappare questi buoni. Venite con me. Vi faccio vedere questi buoni. Guardate che lavoro. 20 euro di ricarica. Bidu Shop. Di tutto e di più. Carefour. Per tutti i nuovi iscritti, cliccate qua e vi lascio 10 puntate gratis. Ragazzi, è gratis. Chiamolo, chiamolo. Chiamolo. Ah! No, che caffone. Via che si parte. Palestra time. Time, let's go. Tu che ne pensi? L'hai voluta la bicicletta? Eh? È dura. Adesso pedala questo cincillato. Pedala. Eh? Due chilometri, Andrea? Sì, sì. Ci siamo. Bella questa poccia. Fermati! Vai. 93 anni. Guardate che lavoro. Vai. Guarda che pacchetto che c'è. Aia. Vai. Mamma mia. Ma chi sei? Rocky Bilbo? Oh. Mamma mia. Che grande. Nell'esercizio preparto? Vai. Spingi che scappa fuori. Spingi. Spingi che scappa fuori. Spingi. Oh. Che grinta. Zà. Un po' di popoli, eh. Ah, ok. 190. 190. Passo. Perché? Vai, vai, vai. Picchia duro, vai. Adesso sinistro antipasto misto. Via. Vai, vai. Vai, mamma mia. Mamma mia, oh. Che potenza. Che potenza. Mamma mia, che forza. Eccoci. Com'è andato st'allenamento? Bene, bene. Eh? Contenti tutti quanti? Tanto. Ah, io gli ho dato stasera. Cioè, lui è incredibile. Gli dico basta, basta, basta e continua. Continua. Basta, ma io l'ho smesso. Sì, sì. Che vitalità, raga. Io mi chiedo sempre, ma noi ha 93 anni, che faremo? 82 come nonna che va come in treno. Boh, pensamoci perché di qui mi pare sempre che è peggio la situazione. Prego, si accomodi, illustrissimo. Non dà i calci, si accomodi. Si accomodi, porca. Ah, chi fa male? Fini bene. Guarda com'è. Oh, pacco. Guarda, ragazzi, cazzo. Chi è? Chi è? Che va forte, guarda, guarda. Ho fatto un sacco fino adesso. Ho fatto un sacco di patate. Reggina Elisabetta prende il tè. Eh, mamma mia, che spettacolo, eh? Biscottini e tè. Ma come te tratto? Come la regina, eh? Nonna Maria. Come la regina Elisabetta. Eh, certo. Arva. Dai. Arva a casa, che scrocchella ha colpito ancora. Vedi, vedi, è un frano di calo perché. No, mica. Ah, dai. Ci va a rubarlo. Ma che ne fanno? C'è l'Inter. Che stai fa? Oh, no. Che stai fa? Nonno. C'è l'Inter. C'è l'Inter. Qua tutto pronto. Maya dell'Inter. Eccola qua, eh. Sei carico? Oh, no. Ah, ci credo. Sei carico o no? Oh, fa la faccia carica. Oh, guarda lì. Oh, fanno come c'è proprio il mio. No, le minacce no. Questa squadra chi ha? Ma non ne so chi ha. C'è Totò. Totò? Eh, Totò è morto. Ma che squadra è questa? Ma che cazzo ne so io. Che squadra è? Ma que'è? Che è? Lo Scha? Lo Schappa. Chi è lo Scha? Lo Schick. Quello Schick. Scha? Schack? Lo Schack? Oh, lo Schappa di coglioni. Adesso si becca. Adesso è bello. Go! 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 No! No, no. No, no. Annullato. Annullato. E perché? È un gioco. Per me non c'era. Ti dico le sì. Oh! Ma che cazzo si è magnato, Gekko? Ma che cazzo si è magnato, no? Eh? Ma hanno già non magnato il quattro. Andre, Andre. Eccolo. Come sta giocando, Andrea? Andrea gioca bene. Eh? Come? Sta giocando bene. Come? Gioca bene! Ah! Go! 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 Chi ha segnato? Lukaku. Lutaro. Lutaro. Lautaro. Annullato anche questo. Ma perché? Senza un attacco per l'Inter. Si rimane solo 0-0. 12 prende e mezzo dall'inizio della ripresa. Annullato. E la spinta. Con le mani Perisic. Sono rimasti bellissimi. Annullo a sto cazzo! Annullo il Nandro! Stronzo di arbitro! Sì! Goal! Nandro all'uno! Non fate tre! Ce l'ho a nulla! Sì! Che ha segnato? Cieco! Chi ha segnato? Cieco! Chi ha segnato? Cieco! Chi ha segnato? Vaffanculo! Vaffanculo! E noi l'avemo straccati! Chi ha segnato? Cieco! Chi ha segnato? Cieco! Chi ha segnato? Cieco! Vaffanculo! Oh! Adesso sì! Che sto bene! Meglio questa raga! Ha fatto due eh! Chi? Cieco! Chi? Cieco! Chi? Cieco! Chi? Vaffanculo! Cusci! Vaffanculo! Non c'è lì allora no? Ma perché? Che hai fatto? Hai fatto un po' Eh? Armagnamo? Come fregati? Vaffanculo! Vaffanculo! Ma c'è l'ha per dormire fuori? Io? Sì! E' un po' calma mia! No no! Non dice voi! Vaffanculo! Delinguente che c'è altro! E' un genaro! Prende! E' un genaro salutato! Eh! E' un genaro, eh! Sì! Ha lanciato... Non ve lo dico che ha lanciato, ma nonna si è incazzata! Ma me l'ho guardato 20 miliardi di volte, ma... Come fai a non riguardarlo? Anybody find me somebody to love... P I P I P I P I P I P I P I P I P I P P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P... Ma dormite? E poi ti ti coglione? Ma ti sto cantando i Queen! Come canti? I Queen! Beh! I Queen! E quell'on?! I Queen! Come quell'on? I Queen! Ma io non sto quer'on! I Queen! Ma che sacco di coglioni? Oppure questa? Ma che sacco di coglioni? Ma che sacco di coglioni! Ma questa è la canzone dei coglioni! Ma che rottura di c***o! Vivo, vivo, l'occhio! Mettone! Oh! Ti faccio qua di coglioni! Ma è la canzone dei coglioni! Ma che c***o mi frega? Ma vabbè, io sono un cantante No, tu sei in testa da c***o! Buonanotte, come all'inizio della Cristoteca Eccola qua, anche se c'erano Meno Santini Non c'era la Madonna dello Stapieno Non c'era Padre Spio Il Parastincolo di Sant'Ubaldo Notte da tutti noi